quando volete fare sul serio un qualcosa che per voi ovviamente è difficile altrimenti perché fare sul serio quando qualcosa è complicato quando dovete assolutamente raggiungere un qualcosa quando dovete impegnarvi imparare una cosa ottenere dei risultati rapidamente volete dei grandi risultati insomma vi serve insomma tutta questa roba qui uno degli elementi più importanti è isolarvi che significa isolarvi non significa che dovete sparire dal mondo ve lo spiego bene questo dovete isolarvi da tutte quelle attività cose persone e poi possibilmente anche pensieri che è una conseguenza delle altre cose che ho detto ora perché altrimenti voi non riuscite a gestire il vostro focus e ora ve lo devo spiegare meglio datemi un attimo e quindi sfarfallate quindi andate con una bicicletta in cui la catena non è inserita cioè pedalate a vuoto annaspate come provare a nuotare nell'aria non si può fare perché non c'è consistenza che vi porta avanti in quell'esempio consistenza data dall'acqua quindi in termini pratici questo che significa significa alcuni elementi primo mi diciamo faccio leva su alcuni esempi per rendere più semplificato il discorso se io voglio imparare delle tecniche comunicative per convincere sedurre conquistare vendere ad esempio un esempio può essere anche imparare uno strumento a livello professionale dover imparare l'inglese dover studiare degli esami dover insomma tutta questa roba qui dato c'è ricordate questa cosa che la vostra mente è come una una sfera adesso per capirci questa sfera è produttiva quando la maggior parte del suo volume della sua pienezza diciamo così è focalizzata su un'unica cosa se noi facciamo questo e poi vi ricollego tutti gli elementi allora noi andiamo veloci andiamo non perdiamo tempo otteniamo dei risultati apprendiamo bene eccetera quando invece questa sfera mentale adesso chiamiamola così per visualizzarla meglio a una bassa un basso riempimento di focus su questa roba che noi vogliamo ottenere vogliamo apprendere vogliamo fare vogliamo rendere produttiva eccetera allora noi quasi che torniamo indietro se questa percentuale molto bassa perché perché ci mettiamo troppo ad apprendere e quindi poi ci dimentichiamo le cose che avevamo appreso i risultati vanno lentamente a volte potrebbero andare indietro rovinarsi eccetera cos'è che svuota di focus questa sfera mentale cioè voi avete questa specie di palla mentale che è la vostra mente ok diciamo così se voi quando frequentate le persone quando vi dedicate tante cose eccetera non effettuate quindi l'isolamento o l'isolamento percentuale relativo chiamatelo come volete in questa sfera mentale c'è una immaginamola con del liquido da inserire o una piccola parte che sta sotto di focus cioè di impegno di dedizione a quello che volete poi c'è il vostro amico il vostro fidanzato fidanzata poi c'è la famiglia poi c'è il lavoro i problemi insomma non riuscite a diciamo così a ad evitare di annaspare non riuscite a ottenere slancio ad ottenere diciamo così una appunto uno slancio sufficiente perché perché tutte cose che vi distraggono che vi portano fuori da quel focus da dall'impegno sulla cosa che voi desiderate fare depotenziano questa cosa qui quindi può sembrare un concetto per un po complicato un po scontato in base alla persona però io vi dico questa roba qui in passato mi è capitato spesso che magari volevo dedicarmi alla mia attività al mio business insomma che che prevede una ventina di filoni studiare ricercare sintetizzare insegnare fare marketing fare video vendere seguire ovviamente le persone vedere risultati andare avanti tutta la burocrazia tutto insomma sono tante cose nei periodi in cui io avevo tante amicizie tanti interessi esterni viaggiavo molto non per lavoro ma per altre cose per conoscere gente anche per sedurre ragazze insomma questa roba qui quando mi occupavo di aiutare persone insomma tante altre cose fuori dal mio lavoro mi rendevo conto che il mio lavoro perdeva tantissimo perché non riuscivo ad avere per sufficiente tempo quotidiano medio una sufficiente concentrazione che significa sia che sono concentrato mentalmente sia che concentro le azioni in modo da produrre dei task dei compiti sufficientemente diciamo così concreti quindi se per scrivere un ebook di 40 pagine che poi a breve vi darò delle novità io ci metto un mese significa che scrivo poco tutti i giorni e quindi quello che io ho scritto il giorno 1 nel giorno 6 magari non me lo ricordo devo andare a rileggere e poi ero in un altro mood mentale quindi l'ho scritto in modo molto diverso devo cambiarlo o cambiare quello che scrivo rispetto al giorno 1 nel giorno 6 se invece io per scrivere questo ebook ci metto cinque giorni perché mi metto lì quattro ore al giorno adesso dico a caso così per fare l'esempio allora in questi magari quattro giorni il quarto giorno io mi ricordo molto bene quello che ho fatto per quattro ore il primo giorno perché è un po più indietro di l'altro ieri insomma adesso per per essere pratici ecco quindi è bene concentrarsi isolare i task più possibile certo non è che possiamo fare solo una cosa al giorno però almeno non sempre però più noi isoliamo quindi dedichiamo più tempo possibile vicino oggi domani dopo domani stamattina oggi pomeriggio domattina in un unico compito e prima riusciamo a tenere tutto quello che ci serve nella mente a concentrarci con il cervello ea concentrare le azioni da fare i task e ad arrivare ad un finale e poi magari ci occupiamo alla cosa successiva oltre a questo se noi in alcuni periodi in cui dobbiamo studiare che magari anche studiare i miei video i miei video corsi insomma il materiale che io vi do come altro in ogni altra cosa se io mi guardo un video al giorno e sono 400 video non finisco più di imparare quando sono arrivato al trentesimo video non mi ricordo più quello che è stato detto nel primo video o comunque lo devo ripassare non riesco ad averli tutti in mente per diciamo così farli fruttare e creare dei collegamenti tra tutti i concetti se invece io mi guardo magari cinque video al giorno per cinque giorni a settimana magari mi tengo libero maggiormente il weekend per uscire e fare altre robe o altri compiti esterni eccetera allora questo è molto più produttivo quindi dobbiamo isolare i compiti i task isolare dal resto delle parti di giornata e a volte questo prevede anche avere delle regole chiare con noi stessi quindi dire faccio così e non ci torno mai più sopra e anche con gli altri ossia devo fare queste cose quindi ci sono solo quei giorni quegli orari per questa per questa quantità di tempo quindi con noi come ho detto e con gli altri perché altrimenti se noi facciamo sempre tutto e a volte in periodi in cui dobbiamo concretizzare essere molto ferrati perché ci serve subito di imparare di ottenere di apprendere di sistemare un qualcosa se noi non ci isoliamo da alcune persone alcuni compiti facciamo sempre tutto ci dedichiamo sempre a tutti sta sedia fa rumore eccetera eccetera noi non riusciamo poi a contenere questo questa serie di elementi che magari ci servono rapidamente eccetera eccetera quindi chi ha tanti amici di gruppi diversi chi fa tante attività chi fa tante robe deve correggere diciamo così questa poliedricità questo multitasking continuo eccetera salvo che poi magari non riesca a concentrarsi varie ore al giorno sempre isolandosi perché non è che mentre gioco a calcetto o gioco a pallavolo posso studiare dei video dei libri o applicarmi o fare qualsiasi cosa io debba fare quindi è molto importante isolare dei compiti per riassumere isolare la mente dal resto quindi concentrarla isolare del tempo da fare a meno da dedicare a meno cose possibili isolare gli obiettivi quindi arrivare prima possibile a completare un qualcosa e poi dedicarsi a quello successivo quindi al posto in una settimana di dedicarmi a quattro task un'ora al giorno per ogni task è meglio che io mi dedico finché non l'ho finito solo al primo task poi al secondo eccetera eccetera quindi dedicarsi più a meno cose così le finisco prima e mi dedicherò prima alle cose successive inoltre familiari amici colleghi uscite distrazione altri hobby altre cose quando in alcuni periodi noi dobbiamo concentrare molto e ottenere molto bisogna un attimo gestirli magari ritagliarseli isolarli a loro volta in dei giorni weekend in solo la sera solo la mattina solo non so due ore dopo pranzo non so adesso dipende dalla situazione perché se noi viviamo la nostra vita come l'abbiamo sempre vissuta ma abbiamo bisogno di concretizzare in modo potente in modo rapido o anche in cose difficili noi non riusciamo a fare queste due cose questo l'ho notato in me in tutte le mie clienti in tutti i miei clienti in tante altre persone che io osservo anche nelle storie dei grandi personaggi del grandi personaggi o personaggi non grandi però famosi queste cose qua quindi ricordate di ripartire i tempi le energie gli spazi tutto quello che vi ho detto quindi ricordate senza eccessi che l'isolamento per come vi ho detto non che vi isolate dal mondo ripeto infinite volte è fondamentale e vedrete dei risultati enormemente più ampi rispetto all'inserire nella vita quotidiana delle cose importanti che volete fare rapide difficili eccetera perché altrimenti non arrivate mai alla fine cioè bisogna non dico per forza sempre sacrificare delle cose ma sicuramente sempre comunque organizzarle ed essere tra virgolette un po nazisti cioè estremisti adesso a parte insomma l'uso come metafora nelle decisioni relative alle cose necessarie che vanno fatte per ottenere dei risultati perché fare dei cambiamenti nella propria vita delle rivoluzioni eccetera non è affatto facile quindi bisogna darsi da fare smettere di piangersi addosso ma per questo video soprattutto smettere di dire sì a tutto e smettere di fuggire dalle responsabilità che in questo caso sono decisioni sono prese di posizione organizzazioni selezioni eccetera eccetera ok queste cose io le approfondisco cioè tutta questa cosa qua in strong revolution che il mio videocorso completo su come diventare strong a livello personale mentalità lifestyle la propria emotività produttività cioè tranne la comunicazione tutto quello che vi serve nella vita per diventare persone davvero strong sta in strong revolution vi metto i link qua sotto in descrizione primi commenti magari anche in sovrimpressione se ci riesco e date un'occhiata alla pagina di vendita in cui vi spiego quanto dura tutti gli argomenti modulo per modulo sono spiegati insomma e io credo sia un ottimo investimento state sempre strong un saluto da lexonofri ci vediamo al prossimo video ciao